... Venerdì 19 febbraio, buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Su Fano TV al mattino alle 7 in diretta c'è la lettura dei quotidiani, ma diciamola meglio, non c'è la lettura dei quotidiani, c'è il commento alla stampa del giorno, quindi diamo uno sguardo e selezioniamo le pagine più interessanti a nostro giudizio e ve le sottoponiamo così che voi possiate avere intanto una informazione, un'infarinatura di base e poi magari stimolati da questi titoli, da questi commenti possiate andare in edicola a comprare i giornali perché i giornali vanno comprati. Allora noi non siamo qui a leggere i giornali, siamo qui a commentarli, a darvi uno spunto per una riflessione magari, perché no? Andiamo a vedere il santo del giorno intanto, il santo di oggi è il Beato Corrado Confalonieri ma è anche San Mansueto, a Milano San Mansueto è stato un vescovo che combatte strenuamente contro l'eresia monotelita. Ora invece andiamo a vedere, tra pochi minuti sorgerà il sole, vedete come le giornate si stanno allungando e la luce sta sempre di più occupando spazio nelle nostre giornate. Il tramonto alle 17.46, dicevo adesso andiamo a vedere il tempo. Il tempo lo guardiamo chiaramente con il bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, per domani sabato 20 cielo sereno su tutta la costa adriatica, qualche nuvola in montagna, ancora domenica, domenica 21 a un mese esatto dalla primavera, insomma siamo lo stesso con cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in lieve aumento. Poi condizioni stabili anche nei prossimi giorni, quindi insomma godiamocene dopo la neve queste belle giornate. La fotonotizia, andiamo subito sul Carlino di Pesaro di questa mattina. La fotonotizia è per il lavoro in corso al centro sociale Monaldi della Celletta, Pesaro in vista dell'avvio delle vaccinazioni. Il titolo vaccini in cantiere, lavoro in Celletta, in provincia oltre 2.500 dosi in quattro giorni. Brucia il prof, alunni perdonati, minacce al docente, video messo in rete, due studenti riabilitati dopo il volontariato e dunque un altro processo. Tutor, raffica di multe. Il sindaco di Fano Massimo Seri questa mattina interviene sul giornale e dice è utile ma si può alzare il limite, quello che abbiamo commentato ieri al 70 tra Fano e Pesaro. Fosso siore, parla il sindaco di Fano. Poi sesso vietato con la ragazzina e distorsione, un pesarese che è finito a processo. Ancona arancione o rossa e il resto giallo. Ecco l'ipotesi, oggi è venerdì, è il giorno cosiddetto del giudizio. Poi posso mangiare prima del siero? Le domande al call center, tra le tante curiosità che arrivano appunto per chi deve vaccinarsi. Anziano morto di freddo, ora la famiglia denuncia, era nella casa di cura. Poi a bell'occhi di Fano un drink dopo le 18, barista multato. Lui dice un controllo dietro l'altro. Sotto l'Ateneo scopre chi inquina e cambia il clima. L'Accademia Nazionale delle Scienze Americana divulga. Un nuovo studio elaborato a Urbino e poi la storia, o meglio, oggi il Carlino propone Camilla Fabri. Un ritratto di Camilla Fabri nel suo nuovo ruolo. L'ex parlamentare e segretaria della CNA adesso guida una RSA del gruppo De Benedetti. Il Corriere Adriatico invece, l'edizione di Pesaro, la fotonotizia, la Fano Grosseto, il commissario Logiche, le quattro corsie. E poi RT sotto 1, le Marche non si arrendono. L'indice di contagio stimato dal Ministero è a 0,91. Ultima chance per non retrocedere in zona regione. Accelerazione per la filiera delle vaccinazioni nell'RSA. Obiettivo entro il 10 di marzo chiudere la prima fase. Poi la trattativa, nuovi caselli a Pesaro Sud e Fano Nord e Valpotenza. Tre nuovi caselli dunque dell'A14, quelli che vi ho appena detto. La regione Marche apre il tavolo tecnico con autostrade per l'Italia, partendo dai progetti più abbordabili. Nel summit, nell'incontro avuto con Aspi, si è parlato anche di terza corsia Sud, ma i tempi saranno lunghi. L'amministratore delegato di Aspi, Tommasi, chiede l'impegno del Ministero, annunciato ma mai preso. Nella foto vedete Baldelli, l'assessore regionale. Poi una siepe abbattuta a sassate, identificato il ragazzino della gang, sempre da Pesaro Benzinai scoprono la furbata cashback ticket moltiplicati. Porta ragazzina in hotel e vuole i soldi, pesarese sottoposto a processo. Infine sotto di taglio basso le palestre sono allo stremo, sarà il fallimento per tutti. Variante del virus, speranza in bilico per il 5 di marzo. Ho fatto bene i ristori, ma noi, dicono i gestori delle palestre, abbiamo il diritto di riaprire. Poi lo sport con Tamberi, che dice bene quel 2,34, ma io posso fare di più. Si parla ovviamente di sport, ma di salto in alto. E allora adesso andiamo nelle pagine a vedere quello che è da sapere, quello da capire, anche perché, ripeto, tra qualche ora vi diremo se le marche saranno gialle, con l'eccezione ovviamente della provincia di Ancona, oppure tutti saremo arancioni. Il Ministero ha dei dati nei quali si evince che le marche sono con un RT a 0,91, ultima chance nel duello per i colori. Dunque oggi sapranno le marche con esattezza se i dati si tradurranno in uno scivolamento verso la zona arancione oppure, come spera la Regione, di mantenere ancora il giallo. C'è un documento anche, oltre all'indice RT, che è stimato a 0,91, un documento ministeriale che attesta come ci sia anche una diminuzione qui nelle marche dei focolai sul territorio regionale, già a partire dalla fine della settimana scorsa. E questo potrebbe dare, insomma, qualche speranza e chance in più a preoccupare l'andamento però in crescendo della provincia di Ancona, in controtendenza rispetto al resto dei territori, dove invece la situazione del contagio appare meno critica nel resto della Regione. Mentre Ancona, come abbiamo visto, insomma, è ancora attenzionata. Tutti gialli, tranne l'Anconetano, titola invece il resto del Carlino di Pesaro. Ecco l'ipotesi per evitare la stretta. La provincia dorica potrebbe diventare arancione o addirittura rossa, ma non il resto della Regione. Oggi il verdetto, però nel report di Paolo Spada, che è un chirurgo vascolare di Milano con la passione dei numeri, Paolo Spada sul suo blog, sul suo sito internet, dove parla di numeri, di contagi, ha inserito Pesaro Urbino nelle zone addirittura rosse perché supera la soglia di allarme. Mentre la pagina 5 del Corriere Adriatico, metà dei contagi è di Ancona, titolo i ricoveri scendono sotto 600, ma anche oggi altre 17 vittime. Già, questo è un altro numero che purtroppo si abbassa con difficoltà. Il numero delle vittime, non si allenta la pressione su 532 casi, sono 264 quelli della provincia dorica, vedete quindi la metà di chi è stato testato ed è positivo, è di Ancona. Terapia intensiva quota 79, mentre calano i degenti nei reparti ospedaliere. A pagina invece 3 del Corriere Adriatico di Pesaro, questa mattina vi segnalo l'intervista a Umberto Gnudi. Umberto Gnudi, dallo scorso anno, è il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore, l'ospedale di Marche Nord, è un bolognese, ha 54 anni, e ad Andrea Taffi, ha detto all'inizio dell'intervista di aver sognato la notte scorsa di fare il piastrellista. E quindi, evidentemente, dice lui, sta notte ho sognato che andavo a bottego da un piastrellista per imparare il mestiere. Taffi gli dice, beh, magari nel suo subconscio c'è qualche trauma legato ai pavimenti. Lui risponde, o forse il mio cervello sta cercando un lavoro manuale che mi stacchi il cervello, appunto. Umberto Gnudi ha sempre una risposta ironica e l'autoreunia in questo caso non gli fa mai difetto. E parla un po' della situazione degli ospedali, anche dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. Chiaramente dice il sistema, sì, sta reggendo, facendo riferimento anche all'intervista che ieri lo stesso Corriere Adriatico ho pubblicato con la Difuria, la dirigente del Servizio Salute della Regione. Lui Gnudi dice che il sistema sta reggendo, attenzione, ma gli operatori in realtà sono in difficoltà. Ecco, i muri ci sono, i letti sono quelli, gli spazi sono gli stessi di un anno fa. Chi fa la differenza? Le persone. E se le persone sono in difficoltà, su questo bisognerà un po' riflettere, stare attenti. In questa intervista, interessante, ripeto, sul Corriere Adriatico, Gnudi fa un po' il quadro. Ora andiamo invece, perché Veronica Angeletti, sempre sul Corriere Adriatico, questa mattina ha realizzato un servizio da Sassoferrato, quindi siamo nella provincia di Ancona, interessante. Allora, abbiamo evidenziato alcuni punti di questo articolo. Sassoferrato perché? Intanto perché Sassoferrato ha 7177 abitanti ed è diventato uno dei comuni osservati speciali della provincia di Ancona. Perché su 7177 abitanti ci sono 146 positivi e 402 persone in quarantena. Ora, il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, da diversi giorni ha cercato in qualche modo di correre ai ripari. Per esempio, l'8 di febbraio ha chiuso tutte le scuole, poi ha messo i parchi con tutte le transenne, li ha chiusi, li ha sigillati. Non è che ha portato granché, a dire il vero, scrive così appunto il Corriere questa mattina. La crescita dei contagi è continuata, nonostante il sindaco sia corso in qualche modo ai ripari. E poi c'è lo schema del virus che è sempre lo stesso. Si parte dai bambini, i bambini che prendono il virus, poi lo portano nelle famiglie, quindi a casa, si ammala mamma, si ammala papà, poi si ammalano i nonni, si ammallano gli zii e questo è un po' tutto quanto il percorso che fa il virus. Ma in questo articolo si parla anche di altre cause che hanno portato a questo aumento di contagi in questo paese che è appunto il Sassoferrato. E adesso quali sono queste cause? Per esempio, sabato 16 gennaio nel paese, quindi a Sassoferrato, i contagi sono saliti alle stelle. Qualcuno ha voluto probabilmente festeggiare prima di andare in zona, ricorderete, in zona arancione le Marche, qualcuno ha voluto festeggiare un po'. E allora si è andati finché era possibile anche nei ristoranti eccetera eccetera. E adesso qualcuno è stato preso di mira. Succede nei paesi piccoli, no? Uno viene bollato, basta che il primo lancia una notizia ma anche non vera quando fa il giro di due o tre bocche la quarta già per la quinta è vera, diventa vera. Ora, l'amarezza di questo ristoratore che è stato preso di mira dice io ho sempre rispettato le regole poi tre dei dodici commensali sono andati ad una festa privata dove lì ha avuto tutto inizio. È successo che qualcuno ha detto guardate in quel ristorante c'è stata una cena, no c'è stato un pranzo e da lì poi è scoppiato tutto l'ambaradamma e sono scoppiati i contagi. È bastato che qualcuno lo ripetesse per più di una volta ed è diventato in un piccolo paese realtà. Il ristoratore invece dice no io ho ancora ben preciso lo schema degli tavoli mi ricordo benissimo tutti distanziati eccetera eccetera e anche altri ne approfittano per dire che il problema non sono i ristoranti ma sono le feste private ed è infatti questo che è il problema ed è questo il problema altrove dice qualcuno altrove sono le case private le cosiddette affollate cene in villa gruppi di amici e non si tratta di giovanissimi che siccome si frequentano di continuo pensano di essere del tutto al riparo dal covid con loro all'indice sono finiti pure parenti e genitori considerati complici e nel mirino c'è finita anche quella pratica diffusa di non voler vedere chi faceva provviste per organizzare party cosa vuol dire vuol dire che attenzione basta guardare dice sul nastro della cassa nei supermercati dove scorre troppa birra troppe patatine troppe troppe cose che fanno pensare che effettivamente da qualche parte si organizzino party ecco anche questo è un dato interessante insomma tutto l'articolo lo troverete sul giornale di questa mattina il Corriere Adriatico a firma di Veronica Angeletti poi vaccini le marche sono sotto la media solo l'1,86% ha completato il ciclo in Italia la percentuale del 2,18% la regione è al quindicesimo posto nella classifica profilassi nelle case di riposo il consigliere Mastro Vincenzo del PD chiede l'accesso agli atti sulla questione dei vaccini è anche il resto del calino pagina 3 oltre 2,500 vaccinazioni in 4 giorni questo è il calendario per chi ha più di 80 anni e che si è già prenotato domani si parte domani è il 20 quindi si parte con le vaccinazioni ecco le regole al centro sociale Monaldi della celletta Pesaro si lavora per predisporre tutti quanti gli spazi l'area vasta consiglia di compilare prima i documenti quindi si parte da domani in tutta si parte nella provincia nelle Marche insomma si parte con questa vaccinazione adesso invece la cronaca le altre notizie dai giornali a pagina 22 a Senigallia guardate queste fotografie sono fotografie che un po' a noi ci ricordano Cartoceto più o meno hanno vissuto la stessa cosa anche se il numero delle persone interessate probabilmente qui è maggiore siamo a Corinaldo si sgretolano le mura del borgo Gorettiano famiglie evacuate paura Corinaldo l'incubo è iniziato un mese fa quando il 14 gennaio erano stati evacuati gli occupanti della casa a ridosso delle mura nel tratto Torre della Rotonda Torre del Calcinaro in via del Fosso il cedimento di queste mura di questo borgo lo vedete in questa immagine e tutte queste persone sono state adesso evacuate martedì lo scostamento fatale quindi il peggioramento della situazione un repentino peggioramento ha causato il cedimento delle mura sotto la paura nel primo pomeriggio anche il parroco di tre castelli in strada era inevitabile e ci eravamo preparati al peggio anche tre bambini tra gli sfollati che però sono tranquilli le 16 persone rimaste senza casa sono state accolte in due strutture del centro il sindaco dice adesso però cerchiamo di limitare i danni sempre a Senigallia paura per una bambina che a un certo punto mentre stava guardando la televisione ha cominciato ad avere degli spasmi è stata portata in ospedale trasportata ad urgenza al pronto soccorso ora la piccola sta meglio una bambina di sei anni che è stata colta da improvvisi spasmi mentre guardava la televisione uno shock ovviamente per i genitori che subito l'hanno portata al pronto soccorso dove è stata presa in carico dal medico di turno che ha disposto il ricovero nel reparto di pediatria sesso con una ragazzina invece a pagina 11 del resto del Carlino adesso un pesarese di 45 anni è finito a processo favoreggiamento alla prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico in sostanza lui a un certo punto ha detto a questa ragazzina o paghi mi dai dei soldi mi dai dei soldi oppure racconto tutto ai genitori ai tuoi genitori le minacce erano di questo tenore lei ha avuto questi rapporti insomma una relazione con quest'uomo lei 17 anni figlia di amici alla quale si era avvicinato comprandola con ricariche telefoniche che lei usava per chattare al cellulare e telefonare alle amiche e abiti anche costosi all'ultima moda tutto questo in cambio di sesso e qui poi insomma dopo dopo tutto quello che chiaramente dopo che lei ha parlato c'è stato le indagini il processo e quant'altro invece è tutto da verificare e si andrà probabilmente a processo per quest'altra vicenda i parenti del 93enne Antonio Brisigotti del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi 93 anni morto per il freddo qualche giorno fa macerata feltria si parla di questa tragedia di quest'anziano che è scappato dalla casa di riposo ritrovato morto assiderato in un camping che adesso finisce sul tavolo della magistratura la famiglia dell'uomo ha deciso di presentare una denuncia vogliono sapere come sia stato possibile che questo 93enne malato di Alzheimer possa essere uscito di sera da questa struttura senza che nessuno si accorgesse di nulla e adesso invece il tutor a pagina 7 del resto del Carlino si parla di questo marchigegno che calcola la media delle automobili che da forse 6 ore vanno verso Pesaro e viceversa e che se superano i 70 km orari vengono sanzionate con delle multe Davide Eusebi questa mattina ha intervistato ieri ha intervistato Massimo Seri il sindaco di Fano e insomma gli ha chiesto che cosa ne pensa di questo tutor e lui dice il sindaco di Fano a Pesaro vengo diverse volte ci sono stato anche martedì per un incontro con Ricci e Vimini sulla cultura e devo dire che a quel tutor ci sto molto attento poi ricorda Seri come soltanto una volta perché era sovra pensiero si è accorto di essere andato un po' più forte dei 70 km orari però non è arrivata nessuna multa quindi evidentemente dice Massimo Seri quel giorno il tutor non era in funzione poi dice sì effettivamente insomma forse i 70 è un po' pochino si potrebbe far salire a 80 in qualche modo la soglia oltre la quale poi scatta la multa questo è il pensiero del sindaco che però resta convinto che insomma in quel tratto soprattutto in estate chiaramente servano questi questi deterrenti poi sugli incassi perché abbiamo parlato di 100.000 euro di incassi ieri il Carlino citava Varotti il presidente del Confcommercio pesarese che ne ha prese 12 di multe nel giro di qualche settimana solo lui ha versato nelle casse del comune 800 euro di multe quindi in totale 100.000 in questi pochi mesi e Massimo Seri dice beh io non penso non credo che un'amministrazione comunale pensi all'incasso quando prende provvedimenti di questo tipo cioè quando installa degli autovelox piuttosto che dei tutor come quello Trafano e Pesaro o meglio non è questo quello l'obiettivo anche se i ricavi indirettamente aiutano le casse comunali Camilla Fabri che fino a fatto Camilla Fabri onorevole ex onorevole poi è stata segretaria della CNA adesso lavora nella sanità privata così scrive il Carlino di questa mattina dalla politica alle cliniche ecco la svolta di Camilla Fabri figlia d'arte segretaria CNA parlamentare col PD per una legislatura quindi consulente in regione con Luca Ceriscioli da un mese dirige una RSA del gruppo De Benedetti a Bologna e Maurizio Gennari l'ha intervistata lei dice ricordando ho sempre detto quello che pensavo quando comandava Matteo Renzi andiamo sulla pagina di Fano adesso invece perché un barista è stato multato dai vigili lui dice lasciatemi lavorare dopo le 18 c'erano ancora clienti seduti ai tavolini con un drink in mano e lui amareggiato dice sono entrati e li hanno mandati via sanzionando però solo solo me la comandante Anna Rita Montagna dice comprendiamo ma siamo chiamati a far rispettare le regole a Sant'Orso invece un quartiere di Fano dove recentemente c'è stato anche un incidente un incidente piuttosto grave che ha visto coinvolta anche una ragazzina di 14 anni che tra parentesi sta bene e di questo siamo tutti davvero felici a Sant'Orso la zona a 30 km orari verrà delimitata da 6 porte pronto il progetto dell'architetto Turchi per garantire la sicurezza di pedoni e di ciclisti adottate misure per contenere la velocità dei veicoli in un rione spesso teatro come abbiamo detto appunto di incidenti poi sotto la pista ciclabile un solco di divisione politica il centrosinistra la vuole sui binari la pista ciclabile sulla vecchia farrovia Fano Urbino il centrodestra invece no Sir Filippi parla e dice adesso i fondi sono a rischio il comune sempre il comune di Fano chiede di interrare i cavi dell'elettrodotto è una delle richieste che Fano avanzerà a Terna in vista dell'investimento che la società intende realizzare con Adriatic Link la proposta è stata lanciata dal vice sindaco assessore Cristian Fanesi è prorogato invece fino al 31 dicembre di quest'anno il bando a sostegno delle nuove imprese vale per quelle create dai giovani fra i 18 e 35 anni parliamo della fondazione Cassa dei risparmi di Fano poi sempre da Fano emergenza idrica lato ora studia un altro invaso lungo il Candigliano i sindaci convocati lunedì la risposta ai cambiamenti climatici è il quarto serbatoio nel bacino del Metauro poi aiuto ai giovani imprenditori bando prorogato anche qui la fondazione Cassa dei risparmi di Fano Carifano copre gli interessi del prestito bancario la società aeroportuale invece il corriere sempre da Fano torna alla gestione di un consiglio perché è in perdita il sindaco ringrazia l'amministratore Unico Ruggeri ma il problema è soprattutto quello degli ammortamenti la pagina di Vallefoglia getta l'eroina dal finestrino fermato e arrestato un quarantenne arrivava da Montescudo secondo colpo in pochi giorni al canale romagnolo della droga mentre sul Vallefoglia polo tecnologico sopra luogo dell'università per il bike park 200.000 euro in scadenza progetto al palo il comune chiede tempo le cesane devono ancora rinascere dalla cenere quell'incendio del 2017 per i fondi stanziati nel 2018 c'è solo un piano preliminare mentre piovono calcinacci al cimitero di Fermignano lo spavento di un cittadino l'uomo era andato a trovare un caro estinto quando è stato sfiorato dai frammenti di cemento nuove scoperte sul clima invece dagli studi dell'Ateneo l'americana accademia nazionale delle scienze pubblica le ricerche nate dai progetti urbinati parla la prof Michela Maione mentre è morto il professore Antonio Antonelli una vita dedicata ad arte e fede ieri c'è stato il funerale aveva 89 anni due detenuti si sono laureati all'interno del carcere di Fossombrone due detenuti laureati con lode alleanza educativa con l'Ateneo emozione per la discussione delle tesi nella casa di reclusione appunto di Fossombrone due nuove lauree che sono state assegnate a detenuti studenti del polo universitario attivato dal 2015 che vede a oggi iscritti 20 studenti e 10 corsi di laurea differenti al polo universitario Paiardi dice beh questo è sicuramente un bel traguardo a Fossombrone sempre i quadri salvati dalle razzie esposte alla corte alta le opere un tempo erano nella chiesa dell'Annunziata ora recuperate dai depositi la Valcesano da Pergola questione pratica non politica ora voglio sapere che cosa succede l'ospedale la sindaca di Pergola chiede un incontro al governatore Cuaroli sui lavori appunto dell'ospedale poi la cronaca da Marotta perde il controllo della sua auto e finisce contro un furgone un settantenne resta illeso l'incrocio è però dicono pericoloso dopo 45 anni di matrimonio allontanato dal giudice a Mondavio un sessantenne deve stare a 200 metri dall'ex moglie per le minacce Senigallia trattativa tra conade comune per ricostruire il ponte Garibaldi potrebbero essere utilizzati i 2 milioni dal parcheggio di via Campoboario stralciato dal progetto mentre il covid come un'influenza le scuse non convincono il vice sindaco Pizzi attaccato anche dalla sua maggioranza e sul carlino appunto sulla pagina di Senigallia trova spazio ancora questa vicenda che non finisce più mamma mia forse alla fine del mondo le mie frasi negazioniste sul virus sono state travisate il vice sindaco Pizzi dice non ho mai detto che è una semplice influenza polemica su Montesi qualche paziente sarebbe morto anche senza covid insomma come vedete evidentemente a Senigallia non ci sono molti problemi insomma stanno bene la nostra segna stampa finisce qui l'informazione torna però questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia ma è sempre a vostra disposizione sul nostro sito internet occhiolatotizia.it andatelo a visitare perché lì troverete tutti i nostri servizi tutti i nostri video tutto quello che vedete in televisione lì lo ritroverete on demanda è tutto grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti